Ragazzi, comunque su un nuovo video è un'altra volta. Bella. Da Gianmarco e da Daniele. Sì. Tosc. Toscone. Sì, è il mio soprannome. Ecco la faccia brutta. E con questo qua l'anteprima di Pia 14. L'anteprima di Pia 14, vi facciamo prevedere. Adalto a Barca, no. No. E Baccellona, contro. Dovrò scegliere Juventus. No. Perché? Allora, io vedo, no, quindi lasciamo, scegliamo, anzi. Non lo so, eh. Roma. Roma. Allora, Roma, Barca e Lola. E questa è l'anteprima del video. E mettete mi piace, nei nostri commenti. E vedete voi. No, intanto questa è l'anteprima per avvertire il video. E a dopo con il video. Bella. Ciao.